Buonasera, però la maglietta mi rovina il green screen E se aumento un po' la luce Buonasera, buonasera, grazie Ivi per i 5 mesi Waxio per i 33 e Kitsune per i 4 E Jonathan per i 46, grazie mille Eccomi qua, ciao Ivan, grazie Alex per i 40 mesi di tier 2 Qua siamo, spettacolo stasera, buonasera, buonasera Buonasera I preneti fanno vedere la cacca? No, questa stanza mi fa venire la cacca E' molto molto fredda, io sono stato anche poco bene oggi E infatti mi vedete in felpa per la prima volta da una vita Felpa piena di pelazzi di sif Da quant'è che non facevo una live in felpa? No, si pronunciate Fa freddo, sono stato proprio poco bene tutto il giorno Grazie a EdnaMod per i 14 mesi Tra l'altro Pensate Oggi sono stato poco bene e allora ho detto Vabbè mi metto a montare un pochino dal salotto Mi sono portato il Mac in salotto, non lo faccio mai Fortuna che l'ho fatto Scopro, scopro in maniera molto interessante Che si è gonfiato di nuovo Non so se vi ricordate l'anno scorso Che sono andato a fargli cambiare la batteria Perché si era gonfiata, si è gonfiata di nuovo E' un problema questo E' un problema Infatti lo dovrò riportare Ancora Si ma è assurdo E' assolutamente assurdo Tutto ciò Di nuovo Di nuovo E non mi è mai successo Mai successo Che sia qualcosa nel Mac che fa gonfiare la batteria Ma izzi Sai quella è la cosa straordinaria Che quando mi hanno sostituito il Mac l'altra volta Visto che è tutto fuso assieme Tutto fonduto Hanno cambiato tutto Non solo le batterie Hanno cambiato tutto Mi è rimasto solamente il case Insomma la parte metallica Assurdo Sono contento Ivan Non l'ho visto L'ho visto Giusto che l'ha fatto Favij Lorenzo Però non ho neanche aperto Ho sbirciato Sembrava interessante Ho detto vabbè dai Proviamolo Poi ho visto che ce l'hai anche tu su Steam Grazie ad Alex Per i suoi 38 mesi Bruce Per i due Cazzi Gianlu Per i 5 mesi Buonasera Gattone Buonasera anche a lei Grazie Grazie anche a Matthew Per i 16 mesi E ho capito Lo cambio direttamente ragazzi Adesso sto facendo un magheggio Spero che mi riesca bene Perché Sono soldi Comunque Sono soldi Adesso vedo con una roba rateale Se riesco a portare a casa Il Mac Mini Perché tanto ho notato che Il portatile non lo sto utilizzando così tanto Mi porto a casa il Mac Mini Questo lo faccio aggiustare Lo rivendo Devo vedere Il problema qual è? Che riportarglielo Non è un problema E che se lo tengono 15 giorni Come l'ultima volta Io ci devo fare i video E forse Non lo so Ma potrebbe essere Per questo motivo Che mi si è corrotto Il file video L'ultima volta Perché è una roba stranissima Ma è successa Mai successa neanche quella Boh Non ho idea E il problema Q Non è E che non Non voglio aspettare Non voglio aspettare Perché se la batteria si gonfia È un problema Se la batteria si gonfia troppo E si apre Qua va a fuoco tutto E infatti mi sto anche un po' Cagando ad osso No le riparazioni Mi auguro Che siano gratuite Visto che mi hanno Me l'hanno cambiata L'anno scorso La batteria E ho lo stesso Identico problema Cioè mi incazzo Se non mi fanno Il cambio gratis Io non voglio spendere Un euro Assolutamente Non è che ho messo Il Mac fuori Al balcone A prendere il fuoco Sotto il sole Cioè cazzo Eh Si sta bene Do per scontato Di non pagare Una lira Per forza Siamo Nell'epoca degli euro Grazie a Gian Milano Per i sei mesi Buonasera ragazzo È sempre un piacere Rinnovare con lei Come sta? Eh oggi sono stato Insomma Però devo dire Che adesso sto Decisamente meglio Grazie Grazie a Mark Buonasera ragazzo La seguo moltissimo In past Complimenti davvero Sempre minore di tre Grazie mille a lei Sono contento Che lei si diverta Grazie a Sguacustino Grazie per farmi sentire Meno la mancanza Per gli amici Che per fortuna Sono più di due Come i mesi Che ti supporto Grazie mille Grazie al Fallo Grande Per gli undici mesi Liu 38 Che poi sono 39 40 Ma comunque Sempre minore di tre Abbiamo matematico Grazie mille Grazie a Nino Per i nove mesi Buon mesi di versario Gatto Sempre minore di tre Anche a lei Grazie Grazie a Iase Per la Sub L'agente Simmos Per i 36 mesi Moira I trofei Sono tutti dell'Orfei Buone evacuazioni Per i suoi mobili Abbasso le mele Vive i pinguini All'Orfei piacciono i pinguini Io non ho capito niente Moira Però grazie Un saluto Un saluto Grazie a Xnomis Per i 37 mesi Dragon Dopo un lei L'ha riscattato Con il punto di canale Dei lupi Su The Long Dark Che rinnovo anche Per sei mesi Metà anno è andato Ora ne mancano altri sei Grazie mille E grazie anche Al Cico Italiano Per i 18 mesi Ho finito The Long Dark Ieri Sì sì Assolutamente sì Non vi dico niente Recuperatevelo Tanto poi Prossimamente uscirà La serie montata Sul canale No Allora Cambiare la batteria del Mac Me lo potrei fare Tranquillamente da solo Perché non Non so quanto Costeranno le batterie Si può fare Però Visto che È un lavoro Che mi hanno fatto All'Apple Store Ok Cioè non è che sono andato Da un reseller a calcio Sono andato proprio All'Apple Store In nave Devero Mi hanno fatto La sostituzione Cioè io do per scontato Che torno lì E Faranno La stessa cosa Gratis Io non voglio spendere una lira Anche perché il problema Il problema È hardware Non è che Mi è caduto O Qualcos'altro Cioè Cazzo Do per scontato Questa cosa Sono aperti Sì sono aperti Però oggi Stavo veramente di merda Loro non sono andato Però vedremo Sì Phoenix Doveste avere una garanzia Sui pezzi cambiati È possibile Sì Allora Vedo tanta gente nuova Ragazzuoli Leggete attentamente Le regole Prima di scrivere in chat Per evitare Kick O peggio Ban Tutto un mistero Che il bot Ci va giù Si incazza Il bot Grazie a Master Miller Per i suoi sei mesi E Valebrew Per i nove Le si vuole bene Sempre meno di tre Altrettanto Grazie 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 Buongiorno Cos'è successo Si è gonfiata di nuovo La batteria del Mac Grazie al simposio Buonasera gattone Quest'oggi Non so cosa scrivere Quindi Esordo Dicendo che schifo Le batterie della Apple Che per due volte Ci hanno traditi Ma questa è una roba Veramente assurda Non mi è mai capitato prima Mai Si è andato sfigato Sto Mac qui Non lo so Eppure L'hanno cambiato Metà dei pezzi Blackmore Volevo chiedere una medizione Per esami domani Lo studio c'è stato Giuro E allora Tantissimi auguri Veda di tornare Trionfante Avete 30 secondi Per completare L'hyptrend di livello 3 Avete Perfetto Grazie Siamo tutti tranquilli Grazie mille ad Artemis Per i trentatremesi All'experi ventiquattro Ti si vuole bene Minori di tremila Grazie Così mi avete Lasciato Che era lì All'ottanta per cento Bravissimi Bravissimi Grazie 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 Non è che il tuo modello di Mac Ha avuto un lotto difettoso Di batterie Allora C Sì Perché è il modello del 2018 E avevo letto Che la Apple Aveva esteso La garanzia In generale Per questo problema Però Perdonami Davo per scontato Che nel momento in cui Gliel'ho portato L'hanno cambiato Avessero Insomma Sistemato Il problema Perché c'è già stato Sotto Chiamiamoli ferri Del Genius Bar Quindi Mi pare veramente Assurdo Grazie Termos Per i ride Mi pare veramente Assurdo Il fatto che il problema Si sia ripresentato Perché la prima volta Ci può stare Ci può stare Avere una componente Difettosa Capita Capita Hai una componente Difettosa Sono cose che succedono Hai avuto sfiga Può succedere con la macchina Col computer Col telefono Può succedere Però cazzo Se io te lo porto Mi risolvi il problema E si ripresenta Lo stesso modo In cui Nintendo Ha sistemato Il problema del drift Sulle nuove console No Quello è diverso Gabriel Non l'ha sistemato Però Non gli hai mandato A A correggere L'errore Insomma Non gliel'hai sostituito Serofeno Capirai i tuoi mobili Che a montare Non saprai Va bene Va bene Grazie Grazie a OnlyEyes Per i suoi due mesi E al cecchino Per gli undici Un problema sul carica batterie Ti dico di no Banalmente Vuoi sapere perché? Perché l'ho cambiato Dal modello precedente A questo Ho utilizzato Due cose differenti Ah si Mi ricordo Quindi Non è neanche quello Allora Vi chiedo solo questo Ehm Uso Il tastiere mouse O il pad? Eh Phoenix Non mi interessa Spostarmi su Premiere Sono bravo su Final Cut Mi piace Final Cut Mi fa proprio cagare L'idea Di cambiare programma Mi trovo Molto 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 Bene Con l'ecosistema Apple Per lavorare Testere mouse Per Ivan Grazie a TG Power Per i sette mesi Monto a schermo Chiuso Sì Eh lo so che potrebbe essere quello Però l'ho fatto anche per Con i miei due portati Di precedenti Non ho mai avuto Di questi problemi Mai Devo fare le cose velocemente Non spammate gli stessi messaggi Ragazzi Vabbè Oh partiamo Oh partiamo Vediamo Gioco col mouse Al massimo se vedo Cambio Grazie a Daedalus Per i 41 mesi Tanto ce l'abbiamo qui Parliamo domani mattina Con le dite hai risolto Sì ho risolto che volevano 100 euro per sostituirlo Io gli ho detto Scusi signore Quelle che erano oggi 99 euro No Non è che sono oggi Non sono in sconto È il loro prezzo Sì Microsoft me le ha mandate la settimana scorsa In anteprima Per parlarvene Ok Che in realtà Non è niente di pagato Semplicemente mi hanno chiesto di Di provarle E di farvi sapere come sono Sono soddisfatto Ma ne parliamo con calma domani mattina Con molta calma domani mattina Ah sì mi ricordo Grazie a Banana Joe Per i 100 beats Anche stasera sono riuscito a backarla in live Sì Grazie Grazie a Taco Fox Per i due mesi Perfetto E l'interista Sto guardando tutti i suoi wix Mi piacciono tanto Grazie per la compagnia Siorgatto Grazie a lei Grazie Sono contento Grazie a Diazwind Per i 13 mesi E Tobia Non essendo una persona garulla Le dico solo Continui sempre così Va bene È vero o non esiste Buonasera Siorgatto Mi sono laureata Ma mi sono dimenticato Le chiedo di benedizione Posso averla anche dopo? Assolutamente Buona Dopodiventazione Di ingegnere Grazie Grazie a Diazwind Per i 13 mesi Pixel Per i 7 Per te Non so se sto di qua O meglio di là 7 come i miei anni più 20 Le chiedo di benedizione Per il bando Per la pulizia locale Figo Tanti auguri a lei E grazie anche A Ertna Per i 41 L'audio 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 No si vede il green screen Assurdo Fermo No Scusami Fermi Mi devo togliere la felpa Perché altrimenti si fotte il green screen Scusatemi Arrivo subito Grazie Gabriella Ferry Ride Momento sexy Ho fatto un disastro Pensano le felpe A posto Eccomi qua Scusatemi Ok Vediamo È incredibile Come alcuni colori Sfanculano Da morire il green screen Grazie a Cyreel Per i 14 mesi Allora Grazie anche a Cringy Salad Per i 45 Troppo? Ma che è successo? Mi son frizzato Come mi son frizzato? Ma come? Ma non è possibile! Ma non Oh! E il gioco non parte Tra l'altro Oh no È un tavolo buono Che conosco il proprietario Eh ma certo Ma certo Aspettami Non torno più Ma non è possibile! Non è possi- Non è vero! Ragazzi ma come- Oh Dio mio! Ma che cazzo? Ma non succedeva da- Tu devi essere Igor No si pronuncia Aigo Ma veramente! Ma non- Ma questi sono fuori di testa Allora così non va Così No Non è vero Ma porca Grazie a Rick Per i 14 mesi Cringy Salad Per i 45 Vediamo Scusami Non ha fatto il pipipimp Perché? Questo funziona Mi si è- Mi si è fritto Il camlink? No Funziona Buh Vabbè Riusciremo ad avviare Sto gioco di me Mi fa già cagare Guarda Non ci voglio giocare T'ho visto eh Che si era bloccato Un'altra volta Allora C'è sto cazzo di letto E l'audio è alto Costa 4 euro Se non sbaglio Wake up Mi wake up Oh Sì Ah dovevo premere un tasto Non del mouse E si è wake upata La signorina Non ci sono opzioni Immagino Allora facciamo una roba intelligente Abbasso dal mixer Va bene? Siamo tranquilli Boh Allora Ehm Beh Non occupo lo schermo Bene Oh no Ma non si usa il mouse Allora Perché si Si muove con le Con le freccine Ah si Mi ricordo Grazie Leonora Per i quattro mesi Buonasera Anche a lei Grazie Allora Con la si torna on Con lo spazio C'è item Option Che immagino ci siano Ok Toggle full screen Bello è già È ad alto la grafica Vedi? Giustamente Restart Ok Item non ne ho Ma sai che forse È veramente meglio col pad? Fa un culo Accendo il pad Ah si Mi ricordo Non funziona col pad Non va Scusami Cos'è quest'ombra oscura Che mi sta passando Davanti alla faccia E mi sono anche Un po' cacato adosso Vabbè Niente pad Allora Grazie a Wooden No 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 Gabriele Non funziona e basta È già acceso Non va Grazie per questo metà anno Grazie mille a lei Grazie anche a Scarna Gatto Per tutto il divertimento Che ci regali Buona serata Altrettanto Grazie mille Allora io vado Io vado Qua c'è un libro Lo leggo Posso leggere il libro? Moving day È giorno del trasloco I giorni iniziano a blurrarsi assieme Dice Da quando Da quando si sono trasferiti Va bene Lei cammina molto lento Turn on C'è un cazzo di bello in tv Succede Vabbè Non importa Questo che cos'è? Un Un super nintendo versione giapponese? Le luci saltellano Vabbè Scatoloni Che si Cidi Cioè Ha dato un calcio alla bambola È finita? Cos'è questo timer? Che ho fatto? Ah sì Mi ricordo E c'è di nuovo L'uomo ombra Ma è pericoloso L'uomo ombra? No Eh S'ho cagato addosso però Allora andiamo con calma Non abbiamo fretta di andare da nessuna parte No? Ecco Grazie a zio Mi faccio una benvenzione per trovare lavoro in cucina in questo periodo Tanti tanti auguri cazzo Tantissimi Veramente Grazie anche a giro per i 39 mesi Abbiamo fretta in realtà Ah Vabbè Ma la bambolina ha della fisica però solo vicino al culo Allora io vado C'è una signora che cammina strano e un tappeto che cammina strano come la signora Ah Allora credo di essere morto Però forse è il caso che io mi sposti di qua Perché la visuale è migliore Mi metto un po' così Ecco qua Ecco qua Eh 3 again Che dobbiamo fare Succede Successo Successo Ho visto la bambola muovere seppena si è uscita dalla stanza Giura? Sarà cambiato qualcosa nel libro? No Ok Vediamo se si muove Ci faccio caso adesso No io non ho visto niente C'è stato un bussare C'è il bagno New journal Shift per sprintare Abbiamo la barra dello flush Va bene E posso spegnere la luce E? C'è un cambio musicale quando si spegne la luce Va bene Che paura Ah qua c'è una signorina che dorme Accendo la luce Ciao 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 Che dice? Mi odio Ah vabbè dai Tutto qua? Odio queste mura Effettivamente è un colore un po' strano Avere il bicolore in camera Fa un po' Fa un po' bagno No? Vai Vabbè Odio quello che ha fatto Chi? Cosa? Che mal di schiena stasera Cosa c'è in chat? Perché siamo tantissimi Tanti tranquilli Che coinquilline allegre ADC che è una co... Io credo sia nostra sorella A tab cycle Ne è venuto fuori tab per un istante Con scritto cycle Però è andato via Oh No è qua la luce Se ne va a fanculo Io me ne vado È scomodo correre con shift Comunque Ok Cos'è questo l'orologio? No Ah è la mia foto questa Sono io Ah ci sia la mia foto La foto della ragazza di prima E un'altra ragazza ancora Che era quella che va là Oddio Ma è stata sbarata dentro Hanno fatto bene secondo me Spengo la luce? Non è una buona idea No l'ho dispensa scusami Ok vado avanti Qua c'è un gattino Vado dal gattino Questo è il tappeto di prima Era il tappeto che scivolava sul tavolo Parlo col gatto Miau Miau Ragazzi non datemi aiuti Nenendo Non ho detto nulla Eh però non ditemi un cazzo Per cortesia Miau Secondo me adesso Decide qualcosa Miau Insisto Miau No niente Però se spengo la luce Il gatto adesso Non mi dice miau Mi dice ciao No mi dice sempre miau Ah pick up Cosa? La palla da bullying E con la S Troppo Allora io la metto sul tappeto Che così non va da nessuna parte Che prima era successo Qui ci sono svariate porte E un vetro rotto Cos'è questo coso qua? Non ci posso andare Vabbè Posso pick upare qualcos'altro? No Vabbè Andiamo giù di qui Allora c'è del vomito Che salta E mi è saltato in faccia Che schifo E una donna morta Signora Signora Sta bene Secondo me non sta bene O sono due rane quelle Allora io prendo il latte Lo verso? Ha senso versare il latte Non lo so Basta che non ci piangiamo sopra Eh Sono ranocchie queste Un po' Non ci posso La madonna Ha suscivolato sulla Vabbè Mi avrà salvato il journal Visto che abbiamo Sì Sì The toilet C'è qualcosa qui Posso sentirlo Sussurrarmi alle orecchie Vuole che io faccia cose orribili Magari smetterà Se Se li do retta Se Se sbaglio Con il mio inglese di merda Ragazzi ditemelo Sono Quelli sono suggerimenti che apprezzo Quindi è un loop Diciamo Allora Accendiamo la luce Eh Non si sveglia più La La nostra amica qua C'è un nuovo quadro? Non ha amica notato È vero C'è il quadro di un signore Però Lei non si è svegliata Prima come Cioè prima si era svegliata Tranquillamente No? Ah però aspetta Se Provo a cazzeggiare Con l'interruttore della luce Tu devi essere No si pronuncia Ah Eccola qua Joseph 17 Finalmente finita la sessione Posso tornare a seguire La benedizione dello scorso mese Ha funzionato Grazie a lei Ho preso il primo 30 Da mia carriera Sono molto contento E lei Odia le mattine Perfetto Odia questa casa Si odia da sola Odia la mattina Ok Cycle Perché c'è un Ok Ok ho capito cos'era Il cycle Serviva a cambiare Il L'opzione Si odia Odia queste mura E odia Quello che ha visto Vabbè me ne vado Tutto arzigogolante È sparito il signore Il signore Che era lì È sparito E ha Inculato la porta Ok aspetta che seguo La ragazzina Odia questa casa Si 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 Vediamo dove va Grazie Jackie Ci si caga Ma va là Io la conosco Questa canzone Quella di Up Allora Non mi piace Che ci sia una tagliola Attaccata al soffitto È Up Vero? È la canzone di Up Il candelabro Lì Che casca Nella crappa Grazie a Jackie Per i 20 mesi È quella di È quella di Up No si pronuncia Igor Posso anch'io? Sto cercando di suonare Leave me alone Tabby Ok noi abbiamo un nome Ci chiamiamo Tabby Vabbè Ciao eh Ti spengo la luce Così ti diverti il doppio Paura le porte che sbattono Candelabro di Damocle Che è successo? Allora Secondo me è successo Il patatrack E questa cosa qua Serve ad aprire Questa porta di qui però Unlock Però secondo me La nostra amichetta È morta Una canzone adatta E il suo fantasma Stava uscendo Dalla porta È possibile? Tutto bene? Tutto bene? Parlo col gatto Vediamo cosa mi dice Miau miau Eh miau 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 Anche a te Avevo detto che moriva Vabbè Vedi il fantasmone? Che fa? Mi acchiappa Mi acchiappa Quindi anche il fantasmone Mi acchiappava Grazie a Saro Real Per i 24 mesi Allora Non mi ha sbloccato Nove cose È vero La prima volta Mi ha ucciso il fantasmone Hai ragione Gab Però Visto che Abbiamo scoperto Questa cosa Credo che sia proprio Un loop a tempo Entro qua Prima che venga sbarrato Non posso E chi è questo signore? Non mi fa entrare qui Se spengo la luce? Neanche Magari non è morta La signora In cucina Ecco qua Non è morta Cosa c'è qui? Ah è bagnato per terra Forse Forse Possiamo impedire Che La signora Caschi Come faccio? L'avviso Guardi che piove dentro O posso chiudere la Aspetta Vediamo se riesco a spostare una sedia Che cazzo riesco a spostare? No Qua si sbrissa E cosa dovete Verso? Latte sull'acqua? Sì lo so ma che serve Prendere il latte Lo so che lo posso prendere Ma non mi serve A meno che Non lo possa dare al gatto Aspetta Forse lo diamo al gatto No aspetta Aspetta Che scivoli e muori Aspetta 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 Ti parlo eh Rimettilo in frigo Quando hai finito Sì però aspetti eh L'importante è che La tendo La tendo Stiamo attenti Sto facendo un sandwich Sì 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 Mi metto qua Che così non sbrissa sull'acqua Pericoloso Un rotolone Non ce l'hanno Non ha un secchio Qualcosa Ma poi da dove arriva l'acqua Scusa Dalla finestra Ma come cazzo sta piovendo C'è proprio così Assecchiate diagonali Io sto qua Io sono convinto Che se sto qua La salvo Ha fatto i sandwich La dici che può fare da secchio La tazza di latte No ma Ah no Aspetta Sai che forse hai ragione No no Sta beccando sotto Aspetta No no Non cambia niente Non lo rimetto in frigo Te ferma Aspetta Ma rincoglionita Bastarda Vado via Vado via Vado via Vado via dalla scena del crimine Allora verso il latte Che così magari il gatto ci va Perfetto Immaginavo che sarebbe stato così Nel frattempo Quell'altra sta suonando Sblocco la porta Sblocco la porta E ci entro Che sei dei sorci Ok E a me che cosa Ah posso pick upare il topo? Premi space Open menu Ah Items Ho un bucket Ho un bucket Allora Questo bucket Probabilmente ci serve Per raccattare l'acqua Quasi sicuro Quasi sicuro di ciò Quasi Ah che cazzo sei? Ma babagulo Ma siamo pazzi Grazie Ace Per i 16 mesi Allora Allora Latte Gatto Chiave Vaso Acqua Non so se riesco a far tutto Però Me la penso così Secondo me è giusto così Guarda La palla da bullying Secondo me la palla da bullying È per il tappeto Che prima il tappeto Si era messo a svolazzare Per i cazzi suoi Allora Vado Perfetto Allora Verso qua E il gatto Si è sposta Ah posso riraccogliere? Oh No dai Non me lo dire No come dorme? Ah Aspetta 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 Guarda come Ah Vabbè Vabbè Scivolando si sveglia il gatto Va bene Se no credo servisse la palla da bullying Allocca Vado Raccolgo Mi levo dai coglioni Per ovvi motivi Oh c'è il fantasmone Perfetto Guarda qua S No figa Ok vediamo Yes C'ho preso C'ho preso Ragazzi Non datemi suggerimenti Non ne sto leggendo Però vedo Gabriel Che vi sta Ammonendo Non ditemi niente Non Non mi serve Però adesso si è riempito il secchio Come la mettiamo? E che se l'ombra qua Grazie a Pinxia Per i nove mesi E Vicky Ciao gattoni Finalmente riesco a fare la sub Grazie a tutta la compagnia Che ci porta Lei si vuole bene Altrettanto Grazie Secondo me la palla da bullying Ci serve in una qualche maniera Magari per Per la ragazzina Eh non lo so Come faccio a impedirle di suonare Ah Il caputale Ma è quella di Ghostbuster Una tagliola Aspetta Almeno la mamma si è salvata Dai A posto Posso mangiare il sandwich Girls ho fatto i sandwich Venite a mangiare Eccomi qua Eccomi qua Mi siedo Eccomi C'è la prima L'opzione Non posso? Ah ecco qua Questo secondo me Lo devo dare invece Al ratto Ok Grazie Grazie Zanna Sono romagnolo Come quel Rossi Favose Tortellini E cappelletti Sono la stessa cosa Bravo Punitivo Va bene Ci sto Ci sto Vuole il gioco duro? Sono duro Sono duro Figo però Mi piace Morda diventata Spider-Man Sì Sì Più che altro Non so come risolverla Quella cosa lì Perché Vabbè che non ho avuto Molto tempo Ok Guarda eh Ok Ok Sono preso? Sì Perfetto Mamma Stai attenta Vado Ok Quindi La tagliola Si diceva No? E come faccio A risolvere qui La situazione Tagliola Così E no Ah Aha Aspetta Questo mi serve Per il sorcio Grazie Henry Per la sub Questo è per il sorcio Ma io Me ne vado Cioè Il topo Prima o poi Arriva da solo Immagino Più che altro La ragazzina Non so come salvarla Perché qua Mi ha detto Il fantasma E adesso Non me lo dice più Eh ma Come faccio A impedire Il lampadario Di scendere Secondo me Non è corretto Questo Adesso mi dice No Non ti piace Vaffanculo Sì Vado a vedere Eh non arriva qua Aspetta Forse qua Va messo Questo qui Guarda Gli faccio Proprio da eschi Figo Mi fa vedere Hanno fatto i sandwiches Vieni e magna Va bene mamma Arriva il sorse E il more Ma adesso che ho ucciso Il topone A me Che cazzo me ne fotte Cioè Cosa ho risolto Nella mia vita Perché non mi sta dando niente Non posso Chi è stato Ah il pianoforte Ok Ah che cos'è questa cosa qua È un'ascia È una pistola Che cos'è Swing Oh mamma mia Ah Era una cetta Era E dovevo ucciderlo Ok ok Adesso ho capito Adesso ho capito Adesso ho capito Ho capito Vado Speedrun Si è liberato Era fermo E dovevi ucciderlo Sì sì certo Chiaro Chiaro Capito Stiamo capendo Con calma Si fa È anche abbastanza Intuitivo Fortunatamente Ah è vero Forse Quando la chiama per i sandwich Eh ma lei muore Comunque Boh Non so Allora questo me la preparo Già qua Boom Ok Ok Un piccolo boost La situa Ci prende Perfetto Ci prende No Di qua Ok Aspetta che non voglio morirci Bestia Aspetta ci sono proprio sotto Ok No Ok Giusto che posso raccogliere più di un oggetto Me l'avevo dimenticato Ok 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 E adesso è morto Ok E dov'è l'utilità Nell'averlo ucciso? Uccidono anche gli altri topi Non muore questo Eh no Con l'ascia Le spacco il pianoforte Ah no Potevo anche riprendere la tagliola Per la porta sbarrata Cazzo è vero che c'è la porta sballata Aspetta 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 No Non volevo Non era una cosa voluta Sì sì Va bene Ah ok Funziona nella porta sbarrata Ok va bene Però mi si è rotto Oh no E quindi Azza Ok E si è spostato il Tappeto E io sono a testa in giù Qua Per qualche motivo Perché si sposta il tappeto Cioè che me ne frega Del tappeto che si sposta A me Non mi interessa Eh Tiro l'acqua Posso raccogliere le rane Senti Dio Perché urlo poi? Che cosa me ne frega? Salve Lei è? Ci posso parlare? No Secondo me mi vuole uccidere Quella cosa là Ah è la sorella Mi sa Vabbè Ciao Il tappeto è pericoloso Me lo aspettavo Scivoloso Non ha puntito Ah Dici che ha solamente tre colpi Ne ho sprecato uno Per la sorella Ehm Vabbè Ma quanto Quanto deve essere strozzo Il gioco Scusami Non può avere I colpi Contati Lascia Ma io di sicuro Non mi aspettavo Che il tappeto Diventasse Appuntito Però vabbè Tiè Ma Vabbè Ragazzi Non datemi suggerimenti Ribadisco Perché vedo che Gabriele sta chicando Non sto leggendo Però Ok Ok Se ho bisogno Di qualche suggerimento Ve lo chiedo Garantito Tranquilli Il tappeto Il tappeto Il gioco È satana Ok Perfetto Ciao mamma Vado Ah no Vado di qua Come si chiama il gioco Home Ragazzi È scritto Qui su twitch Non posso Non ho tempo Per la spissa Ok vai Ok L'ha ucciso Allora Non ammazzo Neanche i topini piccoli Non posso più Raccoglierla La tagliola Ok va bene Non ammazzo I topini piccoli Ciao sorella Facciamo così Ok E a me che cosa me ne frega Di essere venuto qua Che c'è una botola Ok E quindi Non posso indagare Nella botola Grazie a Masby Per cinque mesi Provo a far così Ah si Mi ricordo C'è un signore morto Nella botola Papà Non lo so Chi è questo signore Qua nella botola Boh Eh vabbè Vabbè C'è un signore morto Nella botola Eh signore morto Boh Non lo so Ma siamo pazzi Signore morto Mi dà una mano Vero che c'è in mano qualcosa Però Ha caduto il piano Ah Vedi che gli veniva via il pezzo Cos'era? Una chiave? No Usa La 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 Ma di che? Ah è una È una fionda Te Che puttana Ma non si riesce Te Ah Ma non ci prendo Ma come funziona Sta fionda di merda Ma stavo facendo giusto? Cioè aveva senso Usare la fionda contro quella bestia lì? Ditemi solo questo Per il lampadario Potrebbe essere per il lampadario Ma come facciamo? No scusami Per il lampadario Ammazziamo nostra sorella Non è utile Ok Non è utile No ragazzi La fionda è per il lampadario Cioè o lo becco E sposto il colpo Però è da provare E no perché Nostra sorella è morta Mentre eravamo nel seminterrato Dobbiamo fare una speedrun della Madò Vabbè Grazie Homer Per i 35 mesi Rinnovate 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 Che adesso riprovo È vero Bravo Valsh C'è uscito un nuovo messaggino nel diario M'ero dimenticato Dying La prima volta fa male Ma inizia a non sentirlo Non so più che cosa è reale ormai Mi sveglio lo stesso giorno 8 Ah mi sono svegliato per lo stesso giorno Per 8 volte Tobi Melody non è più la stessa Da quando è successo Mamma Fa finta che non sia successo Posso sentirlo marcire sotto la casa Ah quindi Tobi È il morto Sarà amico di Red? Non lo so Magari ci viene detto più tardi Ma si mi ha il mio culo Ma vai via Che me ne frega un cazzo Di parlare con te Hai che dobbiamo speed runnare Che qua abbiamo perso tempo a leggere il diario Nora a 4 mesi Vuoi essere gattone Arrivo eh Ok In questi giorni riesco a seguirla poco A causa di progetti che ho da fare per l'università Me lo fanno in bocca al lupo? Ma certo Tantissimi auguri Dai eh Ridi Ridi Il problema è che gli oggetti sono riutilizzabili Non so mai quante volte sono riutilizzabili Questo è un problema Ok non è ricomparsa quella cosa di satanica Vediamo se è giusta la cosa della fionda Ok Mazzola Però non credo che lei se ne vada No secondo me casca Vediamo se se ne va Vediamo se se ne va Il vaso Ah cazzo effettivamente c'è anche un vaso Uh dentro cos'è? Ma è un colpo di fucile? Eh vabbè è morta Cosa mi ha dato? Slime shots E che cazzo me ne dovrei fare io? Un colpo di fucile a pompa Ah no Slime shot e fionda? Ah Ok Un colpo No è la fionda E quindi che Scusami Quello che ho trovato non me lo segna? Gold key Ascia Palla da bowling E slime shot Ok ma L'oggetto invece che ho trovato Non era un colpo di fucile a pompa? Perdonatemi Ne aveva tutta l'aria Ah sai cosa Forse devo portare un sandwich Alla ragazzina Forse le porto al sandwich E si sposta Grazie Simone Per i 26 mesi Cosa succede? Ah È successo Quel che è successo è successo Cioè una mano si è preso la mamma Devi solo correre Prima che si sieda Eh cazzo Tostarella però eh Cos'è questo? È il gatto morto? Ah Eh no niente Mi strappa Grazie a chicca Buonasera gattone Faccio un salto per rinnovare La si segue sempre in pasta Le posso chiedere una benedizione Per cercare una casa In questa estate Per una futura stagione Tantissimi Tantissimi auguri Tantissimi Magari si poteva raccogliere il cadavere Vai 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 Speed 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 Figo però Mi sta intrippando Molto più di quanto Di quanto pensassi Eh l'ho messo troppo vicino Va bene Non importa Porca puttana Non so cascare Ma dove è andato Le carellate Ma è ricoglionito Sto gatto Corso troppo No Vediamo se ce la facciamo Secondo la teoria del gab Ok ok La ragazzina Non è ancora passata In teoria Porca puttana No La stamina La stamina No non ce la faccio No Gabriel Non è fattibile Non è assolutamente fattibile Ma neanche Neanche avessi Non avessi avuto Il problema di stamina Non è possibile Dovrei Dovrei superarla No è già arrivata Loro cammino tu corri Sì ho capito Però era troppo Cioè non Voglio credere che non sia così Qua c'è sta roba Che chissà che cazzo è Ah è la fio Credo immagino Abbia visto la nostra fionda Non perdonerò mai padre Per aver fatto quello che ha fatto Prendi prima l'ascia E poi metti il secchio Giusto è vero Perché non è detto Che quello che sto facendo io Lo stia facendo Nell'ordine corretto Quanto passa Voglio vedere Forse faccio in tempo Forse faccio in tempo A fare il cambio Il problema qual è Che adesso Salta fuori Il satanasso No Che vuole Uccidere la mamma E immagino di poterla salvare Con l'ascia Ecco c'è Non funziona più Perché non funziona più Mi si è bloccato tutto Ragazzi mi vedete Cioè vedete la live Si è frizzato il gioco No non volevo dare un'asciata Mi sa che è stato il gioco A fottermi tutto Adesso vediamo Adesso vediamo Si è bloccato tutto quanto Ma tutto tutto Posso raccogliere questo? Si Però si ricrea la pozza d'acqua Presumo No non si crea più Cazzo interessante Si si lo so che gioco è ripartito Adesso vedo di Ritornare anche io Non ritorno più Vabbè Adesso Adesso risolviamo No non volevo Ah miseria Eccola qua Ok E si è bloccato di nuovo Ma come mai? Boh si è bloccato Nel frattempo cerco di risolvere quel problema Non ho la minima idea di che cazzo stia succedendo ragazzi Veramente Mamma? Mamma? La mamma è drogatissima Posso raccogliere anche questo secondo sandwich? No Vabbè metto in pausa un secondo Non so cosa stia succedendo stasera Ma dai Ma avevo messo in pausa Non esiste la pausa Eh Ho visto Eccomi qua Che strana sta cosa Che sta succedendo Forse si è spento il pad Può essere che sia stato quello Non lo so Comunque Provo a fare il giro In un'altra maniera Provo a fare il giro in un'altra maniera Vediamo un pochino Allora Provo ad andare Prima Che arrivi la mamma È però il vaso Cazzo è importante Il vaso Vabbè Prendo la tagliola subito Proviamo a fare questo giro di qua Non ho la chiave Merda no? Eh Ma non cambia un cazzo Questa parte qua va fatta comunque in quest'ordine Per forza No beh Effettivamente Adesso Prima che la mamma Cada Ce ne vuole un pochino Ok va bene Allora Te Tiè Dammi Non voglio parlare con il gatto di merda Ok Ma dove va poi a leccare sto rincoglionito di merda Allora prendo questo Poi faccio così Ecco qua Perfetto Che così risparmiamo un po' di tempo Facciamo così Facciamo così Adesso Vado a mettere giù il secchiello C'ho preso? Sì Perfetto Non so se ho fatto giusto Cazzo Cazzo no Cazzo no Cazzo no Cazzo no Dai dai Niente Prima la fionda e la luce La luce Ah la fionda e la Prima di mettere il vaso Dici Effettivamente Adesso lei li sta suonando Ok Fammi vedere Perché la mamma Finché non chiama per il sandwich Non ha problemi Ok Allora Ammazziamo la nostra sorella Così vediamo come funziona Ok A colpi infiniti Questa roba qua Credo di sì Sì ma non Non ci prende Mettere il cibo Al posto del vaso Che rompe con la fionda Svegli la mamma Con l'acqua del secchio Sai che poteva essere Un'idea anche quella Vabbè Il gatto scuoiato Che fine ha fatto Ah non mi posso difendere Dalla creatura Con l'ascia Ok Va bene Dai Vado Ok Non devo permettere Che la barra diventi rossa Perché sennò dopo il cooldown È infinito Porca di una miseria Allora vado Qui abbiamo tempo Per farlo Perfetto Ok Vai Vai Dai Non ti incastrare Figa Ok Fionda Ok Arriva adesso la mamma Abbiamo veramente tempo Ok Uno Due Tre Buona Mi sono beccato il cooldown Ma non è un problema Perfetto 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 Sappiamo la sorella Dove cazzo va Ok Raccolco questa cosa Qualunque cosa sia Devo andare a salvare la mamma Eh il problema però qual è Adesso cosa succede La mamma scivola lo stesso Perché l'acqua per terra C'è comunque Vabbè Allora prima il secchio Prima il secchio Qua va a fuoco tutto Figo Mi servirà il secchio Che l'ho raccolto prima Perché sono pirla Sì sì Guarda Mi serve il secchio qua Non è andata Proprio come mi immaginavo Eh vabbè E il gatto muore bruciato Immagino Ok E la nostra sorella C'è una foto girata Lì adesso Allora Qua c'è una Mostro Ah Secondo me Porca puttana signora Se io faccio così Secondo me Il tappeto lo blocco Guarda che lo sapevo Guarda che adesso muore Dal coso Vai Seccala No Ma va a fuoco Torno in camera mia Oh no La bambola parla C'è qualcosa di peggio Della morte qui Eh Sì Ah Che paliura Mi ha preso Alla mamma ci porta in cucina Giustamente Questo è il suo modus operandi Ultimo try per stasera Ok Che è successo? No Che tasti permane Dai windows Non ti ci mettere pure tu Vaffanculo Già non ho margine d'errore Ma che troiata Guarda Niente Il computer oggi ce l'ha con me Guarda Cazzo la chiave Io adesso devo mettere il vaso Eh ma mi sa che È tardi comunque per il vaso Vabbè vediamo un po' come va Secondo me è tardi Merda Merda Eh no 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 Ragazzo bambino Luigi Per 50 mesi No ma come faccio? Non c'è uno straggio per... Eh intanto vediamo se effettivamente nostra mamma è morta Poi vediamo No Ah l'acqua dopo un po' si riassorbe Forse in questo momento posso mettere il vaso Ma faccio comunque tardi Faccio veramente tardi Provo a fare la cosa del sandwich Anche se non credo sia corretta Adesso me lo ricordo Grazie Gabe Grazie Gabe Per i 5 mesi Toby amava questa canzone Vediamo se riusciamo a spegnere il fuoco Almeno Vediamo se funziona così Sì 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 E a che serve? Ah qua si ricrea la pozza Quindi si riempie d'acqua È plausibile pensare che si riempie d'acqua due volte Vediamo un po' come evolvere qua Dai Vediamo A meno non hai un incendio in casa Sì ma non so dove sia la fregatura Ok Secondo me Come si diceva anche giustamente prima Posso svegliare la mamma Con il secchio d'acqua Non ci abbiamo preso Perfetto C'è la mana Eccola qua Però adesso ho buttato per terra una secchiata d'acqua Adesso si alza e si ammazza la signora Vediamo Perché sta a dormire Se faccio così No 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 Non è la risposta Non è la risposta Ah Cazzo Pensavo se ne andasse È perché ho posizionato male il vaso Però ho visto dei progressi Al di là delle tempistiche Stavo andando Stavo facendo le cose correttamente O stavo sbagliando Combo La palla per svegliarla Potrebbe essere anche quello A parte il fatto che Minchia stasera Veramente non funzionava un cazzo Non so cosa sia successo La fiona per il napadario È chiaro È chiaro Sbaglio Combo Ah Secondo me Uso gli oggetti In maniera sbagliata Però con l'ascia Per svegliarla Felpato Ma ero dimenticato Giusto in tempo A fine live Grazie mille Ah sì Mi ricordo Mi si chiedo Poverò Ucciso il topo Ma non so se facciamo a tempo Figo però Figo però Mi è piaciuto Mi è piaciuto Prima è andato via l'ombra Con la fionda Sì Non mi sono reso conto Va bene Ragazzi Ci vediamo domani mattina È lunedì È lunedì Figo Figo Mi è piaciuto È volata veramente un'ora Sì l'ho registrato L'ho registrato Magari lo montiamo Secchio d'acqua serve pieno Quando abbatto il lampadario Quello è chiaro Perché serve a evitare Che ci sia l'incendio Vabbè Ci pensiamo domani sera Ci pensiamo Andiamo avanti domani sera Domani mattina Giochiamo a Ranch Simulator È molto molto figo Anche quello Quindi ci vediamo domani mattina E vi parlo anche Delle cuffie Della Microsoft Va bene Grazie a tutti Come sempre Per Sabre Sab Donazioni Cazzi Mazzi Di tutto e di più Vi auguro Una buona dolce notte E un buon inizio di settimana Dalla zona rossa è tutto E Buonanotte E un buon inizio di settimana